Con YouSlow Web Radio la formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di YouSlow Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di YouSlow Web Radio. Accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione. Mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica, acquista il corso a soli 1,99€. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslow.it Mercoledì 24 gennaio alle 7.15 puntuali su YouSlow Web Radio. Questa è Svegliati Avvocatura. La radio che non ti giudica. Con telefonate in diretta. Buongiorno dunque dalla radio dell'avvocatura. Buongiorno cari amici e colleghi da Pino Gallo. In questo mercoledì ripartiamo con una nuova puntata di Svegliati Avvocatura in cui andremo a trattare di argomenti importanti. Parleremo del patrocinio a spese dello Stato e ancora ci soffermeremo sulle tematiche che investono la nostra professione e in particolare anche in tema di separazioni. Ci sarà un contributo. Io intanto ringrazio Adel che ci assiste come sempre in regia e do il benvenuto a Pierluigi Serra. Buongiorno Pino, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e a chi ci ascolta in diretta e ci sentirà in podcast in questa nuova puntata di Svegliati Avvocatura. Dunque Pierluigi, in realtà io arrivo abbastanza, come dire, depresso da una a due giorni a Roma perché non ho centrato una gricia, credimi. Ho sbagliato tutte le gricia. Ed è la seconda gricia che sbagli se non erro. Non se ne può più. Vabbè, al di là di questo, di questa piccola parentesi. Che cosa abbiamo in programma oggi Pierluigi? Allora, parliamo di patrocino spese dello Stato, professioni e politica dal nostro evento della settimana scorsa e poi separazioni e paternal diffidence. Ne parliamo con Valentina Restaino del Foro di Salerno e del direttivo di MGA che è stata intervistata da te. Un commento sul patrocino spese dello Stato e sulle ultime evoluzioni o involuzioni, diremmo noi. Poi Alberto Vellumiglio, il presidente dell'Associazione Giovanni Avvocati, sempre intervistata da te a margine del nostro evento, quindi i progetti del futuro per l'avvocatura e soprattutto che cosa avevamo chiesto alla politica in vista delle elezioni. Infine, intervista al collega Adriano Marcello Mazzola del Foro di Milano che ci parla di un caso capitato a lui personalmente e di cui ha scritto anche un contributo sul fatto quotidiano come suo solito, nelle separazioni la paternal diffidence, quindi il tema di affidamento dei figli e assegnazione alla casa coniugale e l'orientamento prevalente. Pino? Sì, io a questo punto, come al solito, anche questa puntata di questo mercoledì è densa di argomenti, ma forse partirei subito e chiedo l'assistenza ad Adel in regia immediatamente con l'intervista realizzata insieme con Valentina Restaino. Andiamo a parlare, un commento sul patrocino a spese dello Stato e progetti anche in questo tema. Andiamo ad ascoltare. Valentina, buonasera. Buonasera. Ciao, grazie di aver accettato il nostro invito. Per la verità, connessi come siamo ormai sui social perennemente, abbiamo visto questo lungo, accorato tuo contributo sui social che va a toccare un argomento, un punto Dolenz per l'intera avvocatura, quella che ogni giorno è costretta a misurarsi con i tanti problemi e ci riferiamo al patrocino a spese dello Stato. Ci vuoi riassumere qual era il tuo pensiero a riguardo? Allora, è meggiore ovviamente da tempo, visto che è anche un dipartimento che si occupa di queste problematiche, ed essendo anche un sindacato riferibile all'avvocatura cosiddetta di base, anche se comincia a detestare questa locuzione, ha sott'occhio questo istituto, che poi dovrebbe essere un istituto importantissimo per lo Stato italiano, visto che è previsto direttamente in Costituzione, che da un lato dovrebbe assicurare una difesa compiuta a tutti gli effetti, e non abbienti, dall'altro lato dovrebbe consentire che gli avvocati che decidano di prestare la propria opera in questo senso vengano retribuiti in maniera consona rispetto al loro impegno e alla loro capacità, ossia come un avvocato a tutti gli effetti, l'avvocato che si fa pagare dallo Stato anziché dall'assistito non è un avvocato di serie B. Ovvio questo, ovvio sicuramente, ma i problemi che ruotano intorno all'applicazione concreta di questo istituto ti posso assicurare che forse fra virgolette l'accezione è un po' distorta nell'opinione pubblica, qualcuno ancora si ostina a chiamarlo come gratuito patrocinio, il che rende la dimensione di quello che non è appunto un servizio di un Paese democratico. Ma dall'altro lato c'è l'aspetto della dignità dell'avvocato che presta la sua attività. Visto che prima hai parlato di social ti voglio far notare una cosa, un link che ho cercato di comunicare stamattina ai miei colleghi e però quando si tratta di fatti di gossip sono molto pronti a reagire un po' meno quando si parla di problemi reali, concreti, sui quali bisogna impegnarsi, che per esempio fa riferimento al contenuto del decreto negnici per quanto concerne il padrocino a spese dello Stato per i migranti, quindi per tutto ciò che è connesso ai costi relativi alle protezioni internazionali, esattamente. Ebbene, molti probabilmente non sanno, ma secondo me anche molti colleghi che non si occupano di questa materia non sanno che il decreto negnici prevede che laddove il ricorso per la protezione internazionale venga regettato il beneficio del padrocino a spese dello Stato previamente ammesso viene revocato. Il che significa che se l'avvocato, adesso riguardando la questione prima dal lato del lavoratore e poi te ne parlerò dall'utenza, l'avvocato che si sia prestato in questo modo si vede rigettato il ricorso come accade a tutti noi quotidianamente, anche in altri tipi di procedure, lavora gratis. Lo Stato italiano prevede, nonostante la presenza dell'articolo 36 che ben sappiamo per essere nato in un certo momento storico si riferisce solo al lavoratore subordinato, ma questa è una distorsione, secondo me o meglio un'interpretazione non evolutiva che ha dato la Corte di Cassazione di una Costituzione che comunque è nata nel 46, nel 48 poi è stata approvata, prevede, lo Stato italiano prevede che un lavoratore lavori gratis. Ci vediamo? Sì, sì, ti seguo Valentina. Questo è semplicemente l'esempio più patente, più lampante di una distorsione e prima ti ho detto, lo guardiamolo prima dal lato del lavoratore, quindi il lavoratore e l'avvocato in questo caso deve prestare la sua opera gratuitamente, lo Stato lo prevede espressamente. Dall'altro lato però, qual è il contrattare di questa norma, a mio giudizio assolutamente inaccettabile e credo anche anticostituzionale? che l'utenza avrà un panorama sempre più ridotto di nostri colleghi che siano disponibili a questo tipo di attività. 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 Io non ne faccio, non ne faccio più. Valentina, ti volevo chiedere un'altra cosa. Dì. Hai fatto questo post in cui in sostanza cercavi di coagulare, un attimino, leggo tra le righe di questo post, di coagulare gli sforzi per una risposta efficace. Anche a livello di bossa, che cosa avete in testa voi di MGA sul punto? Scusami, non ho capito, a livello di? Di bossa, bossando quello che è il progetto. L'idea è questa, quella di costituire però in maniera diffusa sul territorio nazionale una sorta di osservatorio che possa comporre una sorta di cahier d'oleance, per capirci, reale, concreta, con documenti alla mano, sui vari disservizi che affliggono questo istituto. Di servizi che, visto che facevi ancora un altro riferimento al post, te li ripeto, sono di tutti i tipi, dalla carenza di competenza dei cancellieri che sono appoggiati negli uffici liquidazioni e che spesso provengono da altri tipi di lavoro e che si ritrovano a fare un lavoro da ragionieri per i quali non sono stati formati. Al fatto che i magistrati liquidino, quindi emettano i decreti di liquidazione dopo tempi immemorabili, che questi decreti di liquidazione vengano notificati all'avvocato e all'assistito dopo anni dall'emissione stessa, è capitato a me personalmente. Io tempo addietro, insomma, qui nella mia città fu addirittura pubblicato dal mattino, io ho ricevuto un decreto di liquidazione dopo 14 anni dalla richiesta, 2016 con richiesta nel 2002, per una liquidazione di 300 Euro che ovviamente nelle more avevo dimenticato, ma non voglio parlare qui dei fatti miei, intendo dire che questo tipo di evenienze si producono quotidianamente in tutto il territorio nazionale. Poi c'è, come dire, l'annosa questione della carenza di fondi stanziati a tali fini, che evidentemente non coprono il fabbisogno, perché di solito, e non capita soltanto nel mio foro, ma in tanti fori, ad agosto i fondi sono terminati, che significa che se io emetto una fattura elettronica a settembre, verrò pagata, se verrà pagata dopo mesi, mesi e mesi, perché sicuramente loro dicono vai a finire nei residui e quindi non verrai pagato comunque prima di un anno. Valentina, sono problemi seri che hanno indotto anche su altri palcoscenici, penso all'ex OUA, penso a Cassa Forense recentemente, penso ancora al CNF, ancora di recente, ad adottare delle misure, ad esempio volte a richiedere la compensazione di questi crediti, di crediti di questa natura, con la detrazione di tasse o contributi per i dipendenti degli studi legali. In realtà c'è ancora molto da fare, perché forse sarebbe anche il caso di monitorarla insieme questa situazione anche con la nostra radio, che si fa anche radio di servizio da questo punto di vista, perché certamente non la finiamo qui, magari metteremo su uno speciale dedicato proprio a queste tematiche, Valentina. Io credo che sia molto importante questo, perché questo riguarda, ti ripeto, non solo il diritto del lavoratore alla retribuzione, ma anche e soprattutto il diritto di tutti a una difesa compiuta dei propri diritti e o interessi legittimi, come diceva la Costituzione. Noi ti ringraziamo per il momento, insomma come ti ho detto siamo a disposizione, buon lavoro. Noi ringraziamo voi per l'attenzione, ciao Vino, buonasera. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com Le 7.29 ancora in diretta, nella giornata di ieri presso il Palazzo di Giustizia del Tribunale di Milano, l'Ordine degli Avvocati ha presentato il nuovo Codice dei Diritti degli Indifesi, L'Opera raccoglie le leggi principali a tutela dei soggetti fragili, persone con disabilità, minori, vittime di violenza in genere e è una pubblicazione che non è destinata solo agli Avvocati e non solo ai magistrati, ma anche agli operatori e volontari dell'assistenza. Con questo libro, spiegava il Presidente degli Avvocati milanesi, Remo Danovi, vogliamo onorare la nostra funzione sociale e trasferire i principi di sensibilità e giustizia che sono alla base del nostro lavoro anche all'esterno. A te Pierluigi. E noi proseguiamo nel mentre che io mi sono accorto che nel latte avevo messo anche l'acqua e non capivo perché il sapore era così diluito. Non parliamo di latte scaduto, eh? No, non è scaduto, ho controllato, infatti controllavo la data di scadenza, era semplicemente diluito nell'acqua. Vabbè, sta parentesi, ci tenevo a confessarla agli ascoltatori. Proseguiamo con la prossima intervista a Alberto Pivero Miglio, che è il Presidente di Aiga, neopresidente intervistato da Pino Gallo a margine del nostro convegno sull'evento in Senato PIF, International Forum, avvocatura a progetti per il futuro e naturalmente richieste per la futura classe politica dopo il quattro mazzo. Sentiamolo. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. In compagnia in questo momento siamo ai margini, sta per iniziare l'evento qui presso l'Istituto di Santa Maria in Acquiro con il Presidente di Aiga, Alberto Vermiglio. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie insomma di essere qui con noi e di aver accettato l'invito della nostra radio, è un momento di incontro, le professioni appunto incontrano la politica. Che cosa chiedono le professioni, soprattutto la professione forense in questo momento, alla politica? La professione forense probabilmente alla politica chiede una cosa ovvia ma non così ovvia all'interno del nostro sistema, di essere ascoltata. Di essere ascoltata in un momento dove le libere professioni non sono più al centro non del dibattito politico ma della questione sociale. Una volta riuscivano a trainare anche altre parti della società, oggi probabilmente veniamo neanche trainati ma trascinati. Mi dispiace doverlo dire perché evidentemente per tanti anni si è voluto sviluppare il piano economico della giustizia sotto un continuo cercare di risparmiare qualcosa, in termini di tempo, di soldi, di risorse, tutto a risparmio. Nel risparmio si è sacrificata la qualità e noi oggi ne stiamo subendo gli effetti. Si è chiuso e si sta concludendo un anno una legislatura in cui, fra virgolette, attacchi ad un sistema processuale, soprattutto in ambito civilistico, oltre che penalistico, sono stati, in ultima analisi, per certi versi sventati. Oggi quali sono le richieste che potrebbero essere formulate alla nuova politica? Sventato quello del civile, un po' meno quello penalistico che purtroppo in tutta la legislatura ha dato l'impressione di seguire i sentimenti dell'opinione pubblica, quando in vere la nostra cultura giuridica ci impone di guidare l'opinione pubblica e non di essere guidati. Sicuramente chiediamo una riforma di sistema. Non si possono più ammettere riforme spot, che siano frutto della contingenza del momento, perché significa non avere prospettiva e progettualità per un sistema giustizia che non è più adatto alle esigenze di oggi. Noi siamo ancora un sistema legato alle esigenze degli anni 80-90, dove tutto girava intorno probabilmente al debito pubblico, oggi non è più così. Dobbiamo farne i conti. Anche in questo, la riforma del civile, noi non chiediamo una riforma che sia tra virgolette con costi enormi, ma è una riforma che deve favorire non solo la tempistica, ma anche la qualità del giudizio. Le valutazioni sulle sentenze non si fa sul numero di sentenze, ma su quante sentenze vengono appellate, quante vengono confermate poi in Cassazione e come è fatto il lavoro da parte dei magistrati. Alberto, le professioni e il futuro. Si parla ormai di professionisti 4.0, i professionisti in Europa come ci si presenta? Ci si presenta cercando di formarsi al massimo all'interno del nostro paese. AIGA, ad esempio, sta spingendo molto sulla formazione altamente specialistica, non quella per la quale siamo obbligati dalle nostre normative forensi, ma quella che può essere utile all'interno di un sistema ormai europeo. AIGA spinge moltissimo per l'internazionalizzazione della professione e cerca di stare accanto alle imprese in un sistema che oggi è al di fuori dei nostri confini nazionali e, devo dire la verità, forse l'avvocatura ancora non si è affacciata in maniera, non vorrei dire seria, ma sufficientemente formata. Ultima domanda, abbiamo qui gli esponenti della Previdenza, è un aspetto molto criticato, soprattutto in questi ultimi tempi, i dati sono quelli che conosciamo tutti, cosa chiedono i professionisti alla Previdenza? Probabilmente oggi proprio questi cali dei nostri redditi ci impone di chiedere al nostro sistema di Previdenza di sviluppare ancora il più possibile il profilo dell'assistenza. Questo è dovuto anche in base ai numeri che hanno raggiunto gli avvocati, oltre 240.000 e tutte le professioni, e non voglio parlare stavolta solo degli avvocati, si affacciano con difficoltà al sistema della Previdenza, pur sapendo quanto esso sia necessario per noi, perché comunque è il nostro futuro, speriamo lontanissimo perché comunque andare in pensione non piace a nessuno, però è comunque il nostro futuro. In questo bisogna chiedere probabilmente di fare più investimenti del terzo settore e non chiedere continui aumenti come forma di contributi alle professioni. Non è il caso probabilmente di chiedere ancora uno sforzo, non tanto con l'eliminazione dei minimi, perché guardate, secondo me la Previdenza bisogna pagarla, e che bisogna pagarla secondo quella che è una contribuzione che sia conforme alla realtà sociale che si sta vivendo. Alberto ti ringraziamo e buon lavoro. Grazie a voi. La formazione professionale diventa smart. Come? Con Radio Learning, la nuovissima sezione dell'app di Uslo Web Radio. Formazione e aggiornamento professionale da colleghi a colleghi sul tuo telefono. Scarica o aggiorna l'app di Uslo Web Radio, accedi a Radio Learning dal menu principale e scegli i corsi per conseguire i crediti formativi. Radio Learning è il nuovo modo di curare la tua formazione. Mentre sei a casa, in pausa dal lavoro, mentre attendi la tua udienza o il turno in cancelleria, mentre fai shopping o durante l'attività fisica, acquista il corso a soli 1,99 euro. Ascolta e rispondi alle semplici domande e alla fine scarica l'attestato. Adesso hai capito? Con Radio Learning e la formazione professionale diventa smart. Condizioni di vendita ed elenco dei corsi accreditati su www.webradiouslo.it Uslo Web Radio www.webradiouslo.it Le 7.37, torniamo in diretta. A Roma, in un albergo poco fuori dal centro della capitale, l'hotel Holiday Inn dell'Europarco dei Medici, Bellomo continua a fare lezioni. Piggio, che ne vale? Continua a fare lezioni. Da un titolo della stampa è destituito ma fa lezioni Bellomo imbarazza i giudici. Qualcuno ieri su un mio post chiedeva ma se è destituito come fa ad imbarazzarli. E ieri Bellomo... effettivamente, è una domanda. Ieri Bellomo era a porta a porta, ieri ho intervistato da Bruno Vespa. Vedo un po' di reazioni sui social, su Twitter. Le domande Pino sono più o meno sempre le stesse. Dicono, ma uno, perché Bruno Vespa, anziché chiedere se era appropriato il dress code, non ha chiesto a Bellomo se sia dicio magistrato proporre la sottoscrizione di un contratto nullo. E poi, sempre la solita domanda, perché non ci interroghiamo anche sul fatto che pretese brillanti magistrati si siano prestati a sottoscrivere per un contratto nullo e che tali magistrati amministrino oggi la giustizia. Gabriele Nuzzo su Twitter. Sono domande che ribalsano sempre. Ce le chiediamo di continuo. Vabbè, noi lo abbiamo già trattato questo tema. Probabilmente ci torneremo ancora, no, Piggio? Vedere un attimino gli sviluppi. Sì, sì. Sperando di poter intervistare anche Bellomo stesso o qualcuno dei suoi legali. Comunque continuiamo. Con quella giacca di pelle che fa tanto tipo. Calpò, mi faremo una domanda con quello. Lo seguiamo allora con la nostra sveglia di avvocatura. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultima intervista in programma, quella realizzata da Pierluigi per l'appunto con l'avvocato Marcello Adriano Mazzola del Foro di Milano. Si parla di separazioni. Andiamo ad ascoltare. Le interviste in diretta di YouSlow Web Radio. Buongiorno, benvenuto su YouSlow Web Radio a Marcello Mazzola, un collega del Foro di Milano. Ciao Marcello. Ciao. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito per parlare di separazioni. Papà separati è una materia che tu tratti molto spesso, il diritto di famiglia, soprattutto da questa prospettiva e ne scrivi, hai scritto un articolo oggi sul Fatto Quotidiano, la mamma assopiglia tutto nei tribunali, titoli tue, parli anche del tema di maternal preference e paternal diffidence, è un caso che ti è capitato o che cosa è successo? Sì, è un caso recente che mi è capitato a Milano, in occasione del quale il giudice è in una situazione di separazione normale, certamente con una certa conflittualità ma senza problemi particolari e con la possibilità di concedere un assolutamento conduiso effettivo, paritario al 50% concedendo l'uso dell'abitazione a settimane alternate avendo una seconda abitazione immediatamente vicina all'abitazione principale, invece di togliere questa opportunità che ha subito riferito al padre la seguente domanda, ovviamente lei sa che deve lasciare la casa, ovviamente noi eravamo sdibottiti il padre in primis e da lì ne è nata una discussione alla quale ha fatto seguito esplicitamente la dichiarazione da parte del giudice, questo è l'orientamento del Tribunale di Milano. Un'affermazione apoditica che ha dell'incredibile, soprattutto in un momento storico in cui piano piano si susseguono delle decisioni in cui l'affido condiviso della legge del 2016 viene veramente reso condiviso e quindi aumentato di più il tempo disponibile per entrambi i genitori, invece in questo caso weekend alternati e classici due pomeriggi con esclusione dall'abitazione. Chiedo Marcello, perché questo viene nella mente dei giudici, non è un problema credo giuridico più culturale? Questo è un problema culturale in generale, ovviamente i giudici sono il riflesso di una discussione culturale che mette al centro la cultura oggi, nonostante da almeno un decennio noi siamo padri attenti che si fanno carico della cura e dell'accudimento dei figli con grandissima attenzione, amore e felicità. E quindi continuare a preferire la mamma significa, ovviamente laddove è possibile dare spazio, continuare a dare spazio agli stessi genitori che hanno accudito più o meno con tempi paritetici i figli, significa ignorare che la società è cambiata e rendere falso l'affidamento condiviso che 10 anni fa è stato inteso e voluto dal legislatore proprio per abbandonare la logica dell'affidamento esclusivo. Peraltro proprio da Milano era recente la decisione del dottor Buffone che invece credeva e applicava il criterio della neutralità del genitore affidatario invece? Il dottor Buffone è eccellente, il dottor Buffone come sappiamo da circa 6 mesi è stato chiamato dal guarda figli e quindi non fa parte più della tribunale e sezione famiglia di Milano. Non aveva certo l'orientamento precedente e questo magnifica situazioni in cui veramente è possibile concedere un affidamento condiviso e l'affidamento condiviso è fondamentale per garantire diritti assolutamente fondamentali come diritto alla genitorialità, alla bigenitorialità e tutto questo nell'ottica del rispetto, del principio di uguaglianza tra i genitori, i finanziamenti e i figli. Che cosa possiamo fare noi avvocati per contrastare questo orientamento? Perché mi pare che non sia fondato su argomentazioni giuridiche quanto più culturali come dicevamo prima. Abbiamo l'ottico di contrastare una giurisprudenza che è assolutamente contraria alla ratio legis della legge 54 del 2006 e che è contraria alla tutela di tutti i super fondamentali come quello alla genitorialità e alla bigenitorialità e in stregio al principio di uguaglianza. Dobbiamo fare controinformazione, dobbiamo rendere noti i casi che non sono posti sullo stesso piano e dobbiamo veramente indignarci. Bene, naturalmente grazie alla tua opera continueremo a seguire anche questi casi perché effettivamente è un punto di vista da tenere presente e da portare avanti come avvocatura. Un caro saluto e un ringraziamento a Marcello Mazzola. Grazie, ciao. Silenzio in aula, si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com Scarica la nostra app. Uslo Web Radio per Apple e Android. Le 7.46 ritorniamo in diretta, siamo in conclusione di questa puntata di Sveglia di Avvocatura, però proprio in conclusione una piccola sorpresa. Siamo andati non a svegliare ma a disturbare perché era già al lavoro per la giornata di oggi. Una nostra amica, collega carissima, Mariella Sottile. Buongiorno, Mariella. Buongiorno, Pina, e buongiorno a tutti. E ti lascio nelle grinfie di Pierluigi. Ti abbiamo proprio, siamo entrati a gamba tesa nella tua mattinata. Ma infatti ero già pronta ad insultare qualcuno perché non riuscivo a capire questo numero alle 6 stelle. Adesso non ho scoperto di sveglia. Non riuscivo a capire il numero della radio. Adesso lo saprai e non possiamo più. Buona giornata. A voi, buona giornata. E dopo aver salutato Mariella Sottile che si è prestata a questo scherzaccio di Pierluigi Serra, noi siamo in conclusione, siamo al momento dei saluti sulla radio dell'Avvocatura. Avete ascoltato l'ennesima puntata di Svegliati, Avvocatura. Un caro saluto allora da cari amici e colleghi, da Pino Gallo. E anche un caro saluto da Pierluigi Serra, grazie per essere stati con noi, continuate a seguire la programmazione della radio dell'Avvocatura. Buona giornata, buone udienze. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati, in onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. YouSlow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.